Che fine hanno fatto i campini dell'antistadio? Per anni sono stati la sede naturale degli allenamenti dell'Arezzo, poi sono venuti a galle i problemi. Troppo alto, secondo il presidente Ferretti, il costo dell'affitto del Mario Lebole e del guerrino Zampolin. E così i rapporti con i proprietari si sono interrotti, i cancelli dei due terreni sono chiusi da giugno e gli Amaranto hanno dovuto traslocare. Le giovanili si dividono tra il sintetico di via Buonconte da Montefeltro e le strutture delle Chimera alle Caselle. La prima squadra invece lavora in via Arno. I calciatori si cambiano allo stadio e vanno al campo con le proprie auto. A fine seduta percorso inverso anche quando ci sono pioggia e fango. Stamani nel Consiglio Comunale l'ex assessore allo sport Francesco Romizzi ha rimesso sul tavolo la questione. Io da ex assessore allo sport avevo iniziato una trattativa con Funghini per la famosa permuta, quindi il comune prende quei terreni e li dà in gestione l'Arezzo in cambio ovviamente di dare Funghini un ulteriore terreno di proprietà comunale. La trattativa quanto ha detto oggi l'assessore Tanti è ferma e quindi continueranno ad allenarsi ad Arezzo i ragazzi dell'Arezzo, della prima squadra, ma inviarno e non nei campi antistanti lo stadio. Era una priorità che l'attuale sindaco aveva detto di volere sbloccare e di fatto sembra invece tutto ancora molto fermo. L'assessore Lucia Tanti ha risposto che la trattativa con i proprietari dei terreni è in corso ma che l'antistadio non è l'unica soluzione. Di fatti il comune, grazie alla disponibilità della Wisp, ha optato per l'alternativa di via Arno con costi molto inferiori a quelli necessari per la permuta che ammontano a un milione di euro. E mentre gli Amaranto girovagano per la città a Pescaiola per uno strano scherzo del destino, l'Orange Don Bosco, società di calcio giovanile, esibisce la sua collaborazione tecnica con un club che non è l'Arezzo.